Rieccoci con un altro video sulla lavorazione del tornio. Oggi vediamo come innalzare le pareti. Dopo che abbiamo visto la centratura e l'apertura adesso dobbiamo portare la nostra argilla dal fondo verso l'alto e vedremo tre metodi. Come al solito lo faremo su questo tornio super economico e come al solito nella descrizione trovate tutti i link all'attrezzatura che utilizzo. Mettiamoci un po' più da vicino e vediamo come fare. Allora eccoci al primo metodo per l'innalzamento delle pareti. Allora abbiamo fatto l'apertura adesso conicizziamo un poco questa argilla verso il centro in questo modo qui. Facciamo una scalanatura alla base dell'oggetto. Questa scalanatura ci aiuterà ad inserire il dito della mano destra nel sollevamento delle pareti. Quindi che facciamo? Con la mano sinistra facciamo una sorta di pinza in questo modo in questo modo qua. Mettiamo il pollice alla base, il medio e l'anulare all'interno, alla base del nostro oggetto. La mano destra, poggiamo il medio della mano destra accanto al pollice della mano sinistra e il pollice della mano destra tocca la mano sinistra. A questo punto quello che dobbiamo fare è praticamente stringere le dita e portare verso l'alto. Stringere le dita interne, le dita esterne l'una contro l'altra, assottigliare le pareti e andare verso l'alto. Piano piano stringiamo e andiamo su. Piano piano stringiamo e andiamo su. Stringiamo e andiamo su. Lasciamo il bordo un poco più spesso. Rivediamolo un'altra volta più velocemente. Faccio qui un segno, un incavo per metterci il dito. Metto un po' d'acqua e due mani stringono e poi pian piano portano l'argilla verso l'alto spingendo sempre un po' verso il centro. Il bordo lo lascio sempre un pochino più spesso. Un altro metodo che posso utilizzare è con invece del medio della mano destra la nocca dell'indice della mano destra, qui in fondo, e la mano sinistra come al solito nello stesso modo. Quindi spingo con la nocca per creare quell'incavo e pian piano porto l'argilla verso l'alto e le due mani, quella interna e quella esterna, salgono insieme. Lascio sempre il bordo più spesso e richiudo verso l'interno. Vediamolo un'altra volta un po' più veloce. Allora, sempre l'incavo qui sotto per mettere il dito. Stavolta metterò la nocca. Le due mani spingono l'una contro l'altra e portano in alto, in questo modo qui. Dito alla base, le mani stringono e pian piano vanno verso l'alto. Lasciamo sempre il bordo un po' più spesso. Vediamolo un'altra volta. Qui sotto si forma un avvallamento e questo avvallamento ce lo portiamo su tutto l'oggetto, in questo modo qui. Troviamo il centro, la base e andiamo verso l'alto, in questo modo qui. Vedete, io sto portando l'argilla dal basso verso l'alto. Allora, adesso ho cambiato inquadratura per farvi vedere una tecnica per sollevare l'argilla, per sollevare le pareti. Quando abbiamo un po' più di argilla sul piatto, possiamo usare anche quest'altra tecnica che prevede l'uso di questa parte qui come, diciamo, parte che stringe all'esterno e la mano sinistra nella sua interezza per la parte che stringe all'interno. Il pollice qui dietro e le altre dita si appoggiano qui sotto. Quindi stringiamo con la mano destra, spingiamo verso l'interno e spingiamo le due mani verso l'alto. Richiudiamo un poco l'oggetto, facciamo un incavo qui sotto e ripetiamo. Stringo con la mano destra, spingo verso la sinistra e tutte e due le mani vanno verso l'alto. Qui al bordo rientro verso l'interno. Lo possiamo fare un'altra volta. Creo l'incavo direttamente con la mano destra, spingo, la mano sinistra sostiene il tutto, vado verso l'alto e chiudo. Avete visto come è stato abbastanza semplice innalzare le pareti e creare il nostro cilindro su questo tornio? L'unica strategia vincente è la pratica, pratica, pratica costante e pazienza nei risultati. Come al solito se vi è piaciuto questo video mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Alla prossima! Ciao!